un saluto a tutti da Tony89 intanto volevo augurarvi un buon feragosto e colvo questo video l'occasione per ricordarvi che domani alle ore 22 domani 16 agosto ci sarà la lobby con voi iscritti ci saranno comunque delle limitazioni sulle gomme sport e limitazione sui punti prestazione che poi saliranno ad ogni giro e sarà questa l'occasione anche per voi per mostrare le vostre auto con le loro livree con le loro modifiche e quant'altro e sarà anche un'occasione per creare un pochettino così di legame in più anche con voi iscritti chi non riuscirà a partecipare ovviamente farò altre lobby di questo tipo quindi altre lobby con iscritti e le modalità comunque saranno le stesse delle lobby che faccio con i miei amici di cui vi ho già portato due puntate la settimana scorsa vi ricordo inoltre che non è una dimostrazione di chi è più veloce non è una gara non si guarda chi è primo chi è secondo chi è ultimo è solo un track day un giro tutti insieme con le nostre auto e un'altra cosa su cui volevo attualizzare è che la data di domani cioè 16 agosto alle ore 22 è la data dell'evento in sé però questo evento verrà portato sul mio canale probabilmente a settembre perché comunque è la terza lobby quindi prima di tutto vedrete la seconda lobby che ho fatto con i miei amici e dopo la seconda lobby che saranno in tutto cinque puntate vi porterò la lobby con gli iscritti sul canale non so quanti giri faremo vedremo anche lì al momento insomma secondo la disponibilità magari potremmo fare quattro cinque giri insomma quello che è e poi magari farò una una selezione di dei due magari dei due tre migliori di questi insomma per per portare due o tre puntate poi sul canale ragazzi io vi saluto e vi auguro nuovamente un buon per agosto questo era un video solo di promemoria insomma per per questo primo evento che ho voluto organizzare ci vediamo nel prossimo video un salutone da tonio89 ciao ciao ciao